Per corsi formativi gratuiti e personalizzati con l'obiettivo di acquisire e sviluppare competenze, conoscenze e abilità nel settore digitale in Sicilia. Ecco il progetto Restart, riqualificazione digitale per il futuro del lavoro, iniziativa selezionata e sostenuta dal Fondo per la Repubblica Digitale e portata avanti dalla Will, che si rivolge a persone disoccupate e inattive tra i 34 e i 50 anni residenti o domiciliati nell'isola. Oltre 40 i corsi in piattaforma e learning, in streaming, on demand e anche in presenza. In prima battuta è prevista un'attività di orientamento finalizzata ad individuare i fabbisogni formativi e professionali di ciascun partecipante in modo da costruire un corso personalizzato e allineato alle esigenze del lavoro. I partecipanti saranno poi coinvolti in un'attività di supporto, orientamento e altre iniziative volte a supportarli nel percorso di crescita professionale. Alla fine il progetto offrerà ai 200 partecipanti una formazione completa. Grazie alla definizione di un piano formativo individuale, infatti tutti saranno messi in condizione di acquisire e sviluppare competenze, conoscenze e abilità digitali specifiche in modo semplice e intuitivo. Le domande dovranno essere presentate tramite modulo online disponibile sulla pagina web www.restartedigitale.it È un progetto organizzato dalla UIL, da Siculform Italia e dall'Università di Foggia. Un progetto di riqualificazione digitale che si rivolge a disoccupati, inoccupati, tra l'età e l'età dai 34 ai 50 anni. È un progetto importante perché offre l'opportunità di inserirsi nel mondo del lavoro, offrendo delle qualifiche che oggi purtroppo mancano. Riteniamo che questa formazione è importante. Il giovane farà una selezione, poi verrà, dopo la selezione, a secondo della preparazione che ha, verrà poi orientato al tipo di corso che meglio si addice al titolo di studio. Riteniamo importante il progetto e siamo certi che servirà, offrirà un'occasione in più ai nostri giovani siciliani.